Weekend da Bollino Rosso tendente al più nefasto e temuto Bollino Nero, quello appena trascorso già a partire dalla serata di venerdì 23 agosto ed in particolar modo per quanto concerne le zone valdarnesi sull'autosola in direzione nord. Era stato ampiamente pronosticato del resto che questa sarebbe stata la situazione, dato il controesodo della stragrande maggioranza dei vacanzieri per il ritorno dalle località del sud delle coste dopo il mese di agosto e le tradizionali ferie estive all'italiana, tanto che era stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti per sabato 24 agosto dalle ore 8 alle ore 16 e per domenica 25, dalle 7 alle 22, orari considerati ex ante come i più critici. Se già dal venerdì è stata l'autostrada del sole quella ad essere più trafficata in quanto è interessata dei rientri dalle lunghe distanze di cui è stato segnalato traffico intenso sul tratto fiorentino della A1 tra Valdarno e Firenze sud e poi ancora più intenso tra Scandicci e il Bivio con la variante del Mugello. E' stata poi in particolar modo la giornata di sabato, quella più colma di disagi, già a partire dalla mattina con rallentamenti proprio nel tratto valdarnese della A1, in particolare tra i caselli di Valdarno e di Incisa Reggello, ma successivamente anche attorno al nodo fiorentino. Tratti peraltro spesso interessati dal traffico anche nelle giornate di ordinaria amministrazione, dunque a maggior ragione in un weekend come quello appena passato. Pure la giornata di domenica comunque non è stata scevra dei episodi di traffico intenso e code, considerando che nella due giorni si è parlato di milioni di auto che hanno utilizzato la principale autostrada italiana prevalentemente in direzione nord. Certo è che il traffico non si è avuto soltanto lì, anche le strade delle vacanze più interne come la cosiddetta Firenze-Mare, la A11 e la Firenze-Pisa-Livorno, la Fipili, sono state particolarmente vissute nell'ultimo weekend con disagi in questo caso maggiormente per le zone fiorentine e limitrofe. Un weekend quindi di necessaria pazienza per molti, che del resto avevano staccato proprio per ricaricare le pile che così hanno potuto riassaporare da subito purtroppo un ritorno alla normalità.